Prima presa di contatto tra il nuovo commissario della biblioteca SATA Massimo Pugioni e i dipendenti del consorzio. All'incontro sono intervenuti il sindaco di Nuoro Andrea Suddu, il commissario straordinario della provincia Costantino Ottidu, l'assessore alla cultura del comune Sebastiano Cocco e il nuovo commissario. Oltre ai dipendenti alla riunione è intervenuto anche il direttore della SATA Tonino Cugusi. L'obiettivo è quello di superare l'impasse dei giorni scorsi per rilanciare l'istituzione culturale nuorese. Oggi qui nella biblioteca SATA incontrare i dipendenti insieme al nuovo commissario Massimo Pugioni. Dopo alcuni giorni di impasse si è risolta questa crisi. Quali sono le prospettive adesso? Le prospettive sono quelle del mandato che è stato dato all'ingegner Pugioni di ristabilire immediatamente le condizioni di vivibilità nella biblioteca per la tutela del servizio e dei posti di lavoro sia dei dipendenti che dei servizi accessori affidati alla cooperativa Servizi Bibliotecari. Dopodiché finita la fase di ristrutturazione dell'ente che è prevista entro il 30 giugno quindi con una cadenza ben specifica si restaurerà un consiglio di amministrazione e la vita della biblioteca proseguirà il suo corso nel solco di ciò che è stato fatto nei decenni precedenti. L'obiettivo è quello di rilanciarla? Certamente, la biblioteca SATA come diceva Lucia Pina è la culla della cultura di Nuoro e della Sardegna Centrale per cui l'intento dell'amministrazione è quello di far tornare la biblioteca ai vecchi fasti proprio onorando anche il nome di Sebastiano SATA.